Rieccoci a Primo Sinterpares, consueto appuntamento settimanale di TV7 dal mercoledì, TV7 Trivenet, ospite il primo candidato, come dicevo prima, per diventare il nuovo sindaco di Pazzo. Per diventare il nuovo sindaco Massimo Bittonci mi sembra sempre di avere che sia già sindaco. Il sindaco uscente, Massimo, così facciamo semplifichiamo. Allora, abbiamo detto che nell'ultima parte parliamo di sicurezza, che è un tema molto caro a Massimo Bittonci. Sono successi due episodi che sono stati poi riportati sia nelle televisioni che nei giornali, uno per quanto riguarda uno striscione e l'altro per l'edicolante che è stato preso a pugni da un nigeriano. Iniziamo con il primo, andiamo a vedere il servizio dello striscione dove questo signore ha preso la multa. Vediamolo. No, clandestini, con questo striscione che vedete alle nostre spalle, che è stato affisso da Enrico Voltan, che ho qua di fianco a me, in una sera di ottobre per protestare appunto contro gli arrivi indiscriminati, il signore Enrico si è preso una multa di 308 euro. Ecco, lei ha chiesto spiegazioni, cosa le è stato contestato? Mi si contesta il fatto che io ho appeso gli striscioni, probabilmente senza autorizzazione, cioè quella che così si dice la fissione abusiva. Ma da quello che leggo qua, mi sono andato a vedere un po' gli articoli, dicono un'altra cosa, o almeno non sono un legale, mi sembra dicono un'altra cosa. Comunque, va bene, c'è stata questa affissione e per questo i vigili che erano qui presenti mentre affiggevo gli striscioni si sono premurati, dopo che li avevo attaccati, di staccarli, di mettersi nell'auto e di portarseli via. Sembra che l'unico che abbiano voluto punire è sottoscritto, insomma sono io. E questo penso sia un atto intimidatorio anche nei miei confronti, forse per chiudermi la bocca. Altra cosa che non riesco a capire è perché non me l'abbiano contestato immediatamente. Qui hanno messo la violazione e non veniva contestata immediatamente per ragioni di tutela dell'ordine pubblico, ma non c'era nessuno. Ecco, è un episodio, Massimo Bittonci, questo che reputa grave, oppure un episodio giusto dove la giustizia si è comportata correttamente per quanto riguarda questo signore, dove lui criticava e contestava l'arrivo di nuovi canadestini. Ma questo è un libero cittadino che ha fatto una contestazione, l'ha fatta in maniera diciamo lecita. Quante volte abbiamo visto striscioni in giro per Padova, peraltro da comitati, quindi neanche da liberi cittadini, da comitati che protestavano per una cosa o l'altra. Insomma, non è che c'è stata questa, sono rimasti affissi alcuni, sono rimasti affissi per mesi, neanche per giorni. Quindi insomma mi pare poi su una ringhiera, quindi su un posto anche aperto al pubblico, mi pare un provvedimento un po' estremo. Mi sembra neanche offensivo, no? I clandestini, quelli che non sono in regola. No, infatti non era neanche una cosa contro, cioè erano clandestini, mi pare che la situazione sia esplosiva un po' dappertutto, mi sembra che un cittadino possa dire no a qualcosa, quindi l'ho trovata fuori luogo, soprattutto colpire un singolo cittadino, magari anche con una sanzione, poteva essergli chiesto magari di rimuoverlo, magari il cittadino una volta fatta la sua dimostrazione, come succede nel 99% dei casi, l'avrebbe rimosso, invece gli è stato sequestrato, tutta una multa, tutta una credine nei confronti probabilmente di qualcuno che non la pensa come questo cittadino, perché sicuramente se il sindaco ha voluto fare questa cosa è perché si vede che lui invece è a favore di un certo tipo di accoglienza. Allora, prima di fare un ragionamento completo per capire cosa vorrà fare Massimo Mitonci per quanto riguarda la sicurezza della città, andiamo a vedere l'altro episodio che è successo proprio poco tempo fa, dove un edicolante per difendere una cinesina è arrivato un nigeriano e l'ha preso a botte. Vediamo il servizio. Erano circa le 8 di domenica mattina quando Angelo Lionello, un edicolante di 60 anni, residente a Duecarrare, si trovava proprio qua vicino, nelle vicinanze dell'edicola di un suo collega, prima di recarsi nella sua diedicola che si trova invece in largo Europa, quando ha assistito ad un'aggressione da parte di un uomo di origini nigeriane nei confronti di una donna cinese. Così Angelo Lionello ha ritenuto, senza pensarci due volte, di andare in soccorso della donna, ma è stato letteralmente preso a bastonate. Sono andato a dividere, come è logico, che uno pensa, ho pensato due volte, ho pensato, ragazza poveretta. Allora sono andato a dividere questa ragazza qua. Vabbè, allora ho allontanato un po', io a distanza, ho detto cerchi, mi allontanavo, cerchi di andare via, perché niente, io veniva su, allora si cominciava su di me, a un certo punto ho detto va, magari va via, ritorno del corsa, il mio collega che aveva una scopa di dietro, lì dietro di io, che ha preso la scopa e dei lanciosi, mi urano sul viso. Lei lo rifarebbe, insomma, tornerebbe in soccorso di questa donna? Io, senz'altro lo rifarebbe, sì, lo rifarebbe, sì. Non è anche giusto che, vabbè, confiate paura, però penso che lo rifarebbe, aiutare una persona manco a rischio. Ecco, tutto questo fa onore a questo cittadino che sicuramente ha cercato di tutelare un'altra persona. Abbiamo fatto vedere questi due servizi, Massimo Bitonsi, per capire, lei aveva già improntato la città per quanto riguarda la sicurezza, sotto un certo punto di vista, con orari, con controlli, con l'aumento di vigilanza da parte anche di persone private che si hanno adoperato in tal senso. Come funzionerà, se Massimo Bitonsi ritornerà a essere il sindaco di Padova, la prossima sicurezza di Padova? Ma, intanto, una solidarietà a questo cittadino che è andato in soccorso di una persona. Sinceramente, mi è capitato, è capitato anche a me, anni passati. Insomma, io penso che ogni cittadino, quando vede una situazione di questo tipo, io capisco che può far paura, ma bisogna intervenire, perché è uno dei nostri doveri anche civici. E quindi, se capita, ovviamente magari più di più persone è meglio, ecco, magari controllate che uno non sia magari armato e così, ma se sono casi di questo tipo, bisogna per forza intervenire. Cioè, nella nostra anche natura... Difficile controllare se uno è armato. No, 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 magari uno al coltello e così sta attento. Ma lo sa perché il cittadino non va a difendere certe aggressioni che succedono a tutela anche di un altro cittadino? Perché poi la legge italiana, la giustizia italiana, non mette al proprio posto dove dovrebbero andare questi. Ma questo è il tema anche di alcuni carabinieri che sono stati feriti un anno e mezzo fa, che poi abbiamo premiato in Consiglio Comunale e che erano stati aggrediti proprio in prossimità della stazione. Io parlando con questi carabinieri, uno è stato ferito alla mano, ha avuto anche una lesione, poi mi aveva anche detto ma io quasi lascio l'arma perché mi sono sentito poco anche protetto, poco anche difeso. Lui mi ha detto chiaramente, cioè noi non tiriamo mai fuori la pistola, perché se dovessimo anche difenderci preferiamo prendere una coltellata o prendere le botte piuttosto di rispondere che sarebbe perfettamente lecito con un'arma da fuoco perché se per caso ci parte un colpo o invece di sparare alle gambe spariamo da un'altra parte e la persona ha dei problemi dopo alla fine paghiamo noi pur in una collutazione di questo tipo. Allora dico, uno, c'è poco tutela delle forze dell'ordine perché le forze dell'ordine quando operano in questi frangenti devono avere una turzella maggiore. Non si può pensare che operano come un simbolo cittadino che quindi che magari fa una rissa con un altro. Cioè un tutore dell'ordine anche se interviene... Poi c'è questo tema della pistola del taser della pistola elettrica che sono anni che la stanno testando insomma viene utilizzato ormai in Canada in America dalle polizie quasi di tutto il mondo non vedo perché non dotare la polizia i nostri agenti di polizia urbana del taser il taser con una scossa elettrica viene immobilizzata la persona e quindi non occorre neppure estrarre pistole sparare o anche altri sistemi di difesa. Quindi io trovo una cosa incredibile. Per quale motivo Massimituzzo non viene attuato? Perché c'è questa fase di test e devono ancora capire se potrà essere utilizzata come succede la burocrazia la grande burocrazia in Italia e questa. Poi noi in questi due anni e mezzo insomma si è fatto secondo me un importante lavoro perché aver aperto la stazione decentrata della guizza e quindi non solo a parole aver promesso il vigile di quartiera ma averlo effettivamente fatto. Quella dell'Arcella che sarà aperta a breve sono finiti i lavori e verrà aperta a brevissimo. Aver assunto 50 agenti della polizia municipale che sono stati anche stabilizzati poi anche dal ho visto dal commissario. Mi è dispiaciuto che si sia fatta quell'operazione di aver tolto la vigilanza privata perché togliere la vigilanza privata dai palazzi comurali vuol dire avere meno personale a disposizione da mettere in strada. Cioè l'operazione che abbiamo fatto noi è logico che costa mettere ma la sicurezza costa bisogna anche investire in sicurezza un milione di euro di telecamere costano comprare i giubbini anti-alcoltellamento anti-taccheggio a agli agenti armarli comprargli le moto prendere le nuove macchine dotarli di vari servizi anche moderni come dicevo mettere giù le telecamere che è un sistema direi eccezionale per il controllo a remoto della sicurezza mettere gli agenti in strada e quindi dare fare più servizi con agenti in strada cambiargli i turni cioè tutte queste cose sono cose positive devo dire che però alcune scelte ultimamente non fatte da me ma fatte magari dal commissario non sono state delle scelte che positive perché questa dei togliere la vigilanza privata ha tolto ovviamente agenti dalla strada quindi la sensazione che c'è è che ci sia stato un tornare un po' indietro nel progetto di Massimo Bitonci per quanto riguarda la sicurezza vuol dire continuare su questo lavoro che già aveva iniziato oppure continuare su questo lavoro implementare ancora più le telecamere telecamere intelligenti che quindi riconoscono direttamente le persone un movimento l'assunzione ancora di più di vigili gli accordi che abbiamo già fatto anche con la polizia e i carabinieri per i controlli territoriali sapete che la celere prima stava all'interno del comando abbiamo ottenuto la possibilità che sia in mezzo più in mezzo ai quartieri quindi con dei presidi dei presidi io penso che questa sia la linea su cui noi continueremo e poi io credo molto nella sistemazione del degrado dei quartieri nel sistema delle telecamere del controllo quindi con le telecamere dell'illuminazione pubblica anche questo è molto importante perché quando una zona è illuminata è già una zona più sicura ecco stiamo lavorando abbiamo lavorato e lavoreremo su questo fronte sono arrivati alla conclusione lei lo sa quando conduco delle trasmissioni sportive perché nasco da lì mi dicono che sono un rompiscato e quando conduco queste trasmissioni mi dicono che sono troppo buono lei mi può aiutare in modo tale che faccio che bella figura di fare una domanda a Massimo Bitonci e far arrabbiare Massimo Bitonci mi aiuta? ma è una domanda che si può fare è sicuramente legata a questo sistema sistema che c'è purtroppo anche a Padova di commistione tra e che mi ha fatto molto arrabbiare tra interessi diciamo di parte o interessi di carattere privato e la pubblica amministrazione abbiamo parlato di centri commerciali ma non c'è solo tema di centri commerciali su cui penso che gli altri candidati avranno qualcosa da dire o staranno zitti non lo so qualcuno dirà ma io non c'entro più niente così mai si scopriranno tutte altre cose e va bene va bene così ma anche quello che è successo per esempio nei confronti di alcuni consiglieri comunali che sono stati molto sollecitati va bene sono stati molto sollecitati sono stati hanno avuto molte pressioni che io ho anche segnalato se penso al tema dell'ospedale il tema dell'ospedale è quello che ha fatto Massimo Bitonci cioè che ha trovato un'area che questo mi ha fatto molto arrabbiare ha trovato un'area gratuita libera per mettere il nuovo ospedale di Padova adesso qualcuno dice ma si potrebbe fare ancora il nuovo su vecchio ma scusa ma se tu eri quello che diceva fin l'altro giorno Padova Ovest che andava bene Padova Ovest abbiamo dimostrato che Padova Ovest non andava assolutamente bene perché per varie motivazioni dagli espropri al problema di carattere ideologico al costo dell'operazione noi abbiamo trovato un'area gratuita mi avete mandato a casa una settimana prima dell'accordo di programma anche qua delle cose che probabilmente saranno svelate durante la campagna elettorale è giusto che emergano gli grandi interessi i grandi interessi immobiliari io sono rimasto fuori cose che mi hanno fatto arrabbiare la domanda era una cosa mi fa arrabbiare e questo mi fa arrabbiare invece ha toccato il testo dell'ospedale ma arriverà o no io l'ho sempre avuto la sensazione del cittadino Padovano che Padova avrebbe una necessità però ho sempre avuto anche l'altra una risposta che in tutti questi anni passando dalla destra Zanonato Bitonci mi auguro che i prossimi mi smentiscano ma perché non ci hanno lasciato firmare io dico ma perché non ci hanno lasciato questa accelerazione di una settimana da una settimana la firma dell'accordo di programma perché non ci hanno lasciato firmare l'accordo più importante per la sanità veneta e la sanità italiana il centro di ricerca più importante con un investimento da parte della regione Veneto di 750 milioni con la giunta regionale che ha deliberato questa è la grande cioè dovrebbero i padovani capire solo da questo che non bisogna votare chi ha mandato a casa amministratore Bitonci solo per questo per il danno che hanno fatto ai padovani all'economia tra padovana e alla sanità padovana ma perché secondo lei non l'ha fatto firmare per quale motivo ci sarà un santo perché non volevano perché sapevano perché sapevano perché su Padova Ovest c'erano interessi grandissimi perché ci sono ancora i ricorsi adesso ci sono i ricorsi al Consiglio di Stato sulla questione di Padova Ovest a parte di finanza progetti porto la domanda banale nella gestione quando è stato sindaco Flavio Sanonato non è cresciuto neanche lì l'ospedale con lei non è cresciuto ma cos'ha questo maledetto o benedetto ospedale siamo stati gli unici che hanno trovato i terreni però cioè adesso l'ospedale è realizzabile con i terreni che abbiamo trovato con le parole le chiacchiere delle precedenti amministrazioni no questo no ma questo l'ho detto ma io quanto tempo ho avuto io due anni e mezzo quanto hanno gestito il Comune di Padova Ovest moltissimi anni due anni e mezzo avevo trovato i terreni ed erano là e sono ancora a disposizione e io spero che il commissario prefettizio non ascolti le sirene che vengono dal Partito Democratico va bene o chi vuole bocciare questo grande progetto ma il Partito Democratico mi scusi non lo vuole lì o proprio non lo vuole l'ospedale secondo lei cioè il Partito Democratico dice a me sta bene l'ospedale però lo voglio dove avevo detto io oppure no a Padova l'ospedale non lo voglio sta dicendo una cosa pazzesca adesso che vorrebbe la ristrutturazione dell'esistente fino a quando qualche settimana fa dicevano che bisognava andare assolutamente a Padova Ovest però lei nel suo questo è una cosa veramente incredibile perché io per un anno sono andato avanti a combattere contro tutti per dire che si poteva fare il nuovo su vecchio e la Regione e l'Università hanno detto di no e io mi sono adeguato per il bene dei Padovani a una richiesta della Regione dell'Università ma anche adesso la Regione continua a dire che nuovo su nuovo è l'operazione e bisogna fare nuovo su nuovo perché sono stati trovati i terreni e ci sono anche le disponibilità economiche quindi vada avanti l'ospedale dei Padovani e Padova Est però se andava avanti la sua prima ipotesi quella nuovo sul vecchio molto probabilmente Padova avrebbe l'ospedale nuovo sul vecchio come l'ha avuto Ottosi a Verona tanto per fare l'hanno voluta sì no ma la sua era un'idea giusta le falsità che dice adesso il PD cioè quando la Regione ha detto di no e quando l'Università ha detto di no con documenti scritti che non c'era lo spazio per fare il nuovo su vecchio l'amministrazione è andata sul nuovo sul nuovo a Padova Est va bene il buon padre di famiglia fa questi tipi di ragionamenti il sindaco Massimo Bitonci si continua sull'ospedale a Padova Est ma certo un nuovo policlinico universitario di eccellenza che i Padovani il Veneto aspettano da sempre chiudiamo mi fa il pensierino della sera prego mi fa il pensierino della sera dico no ma io la sera dormo tranquillamente il pensierino il suo pensiero l'ultimo per cui la traduzione ci vediamo compra sempre stato insomma nelle piazze tra la gente e sarò sempre a vostra disposizione c'è un numero whatsapp c'è una mail parlerò con tutti con quelli che vogliono insomma sono sempre stato il sindaco della gente e non il sindaco scelto a tavolino cioè si trovano un po' di persone ex sindaci capi bastone presidenti di associazioni si mettono a tavolino e decidono che questo fa il candidato sindaco non funziona così il sindaco viene eletto dalla gente dal popolo quindi sono i cittadini che scelgono sindaco grazie Massimo Bitonci grazie a voi buona serata buonanotte buonanotte e buonanotte abbiamo concluso questa puntata di Primus Interpars noi ci vedremo mercoledì prossimo come di consueto buonanotte